Uno, due, tre. È una storia della musica nei campi di concentramento. Ma noi abbiamo il dovere di ricostruire, di recuperare tutto ciò che è andato perduto. Io forse avrei dedicato meno energie. Settimana dopo settimana, mesi dopo mesi, anno dopo anno, quelli che entrano da questa porta sono sempre di più. Hello. È un vero, vero. È un vero, vero. È un vero. Ah, voilà la partizione. Ça, ça a été fait. Au con. My father, when he fled, he folded it up and put it in his, his pocket. Sto cercando di mettere ordine in queste migliaia e migliaia di partiture. La musica è incontrovertibile, non è truccabile, non è deformabile. E avevano perso tutto, avevano la musica che gli permetteva ancora di lasciare qualcosa. Questo è un enorme messaggio per il futuro dell'umanità. What's wonderful in the work that you've done, Francesco, is it's the music that will survive. Bona Rossa, Maria, 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 Grazie a tutti.